No, l'aragna di quel colore non c'è. Poi basta che lo prendi in mano e capisci subito se è una l'aragna. No, l'aragna di quel colore non c'è. Ragarto. Ragarto in cavia. 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 Ragarto. Ragarto in cavia. 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 Ragarto. Ragarto in cavia. Ragarto in cavia. Ragarto. no me dio tempo di encender la camera ora perché mi fico giusto qui sotto però... un medre galpe, non molto grande però dobbiamo fare che non ti voglio fare daño parla, parla, parla deixa farmi una foto non è un tamaño esagerato ma... è un buen tamaño vamo a soltarla chico all'agua vamo! però... dopo alcuni giorni qualcosa è arrivato ragazzi, il video di oggi termina qui come sempre c'è molto poco attività però almeno qualcosa abbiamo fatto ha saluto una trombetta e... un medre galito di un tamaño non molto grande ma è abbastanza buono che dopo di una foto abbiamo soltato con l'acqua per che cresca non... farei ancora... farei, perdona qualche lanza ma... e... dopo... vediamo che... lo peggio al colle quindi... se vi è piaciuto il video suscrivetevi al canale mettetevi su là un like e... con qualche duda o checca o... lo sento che sto pubblicando molto poco però... questo anno la verità è che... sta facendo molta difficoltà a cercare di pescare e soprattutto pescando pescando bastante pesante e non sta salendo assolutamente nada però... la verità è che... voglio traere... più contenuti quindi... mettete una mano e suscrivetevi al canale le grazie molto e vediamo al prossimo video Ciao!